Allora, arrivo al Sud Tirol, le tue prime impressioni su questo club che per la prima volta affronta la Serie B? Io diciamo che anche prima conoscevo il Sud Tirol perché mi hanno sempre parlato bene compagni di calcio, chi comunque aveva avuto a che fare con questa società e seguendolo anche, ho sempre avuto un'ottima impressione e quindi da quando sono arrivato mi è stato confermato tutto, appena ho visto struttura, società che fa calcio comunque in modo professionale come piace a me e quindi ho avuto un ottimo impatto. Ecco, dal tuo punto di vista quest'anno questo è un campionato molto difficile, è quasi un A2 più che un AB, ecco, secondo te il Sud Tirol che tipo di approccio dovrà avere in questo campionato da praticamente matricola. Io diciamo che ho un po' di esperienza su questa categoria quindi la Serie B è difficile, è sempre stata quest'anno molto di più per tutte le squadre che ci sono e il Sud Tirol non deve fare altro che pensare domenica per domenica e con il gruppo raggiungere tramite la domenica l'obiettivo che è in primis la salvezza. Questo è il calendario però si inizia col botto, Brescia-Venezia? Sì, si inizia col botto, sono comunque tutte squadre blasonate, per noi comunque non è differente, cioè non c'è differenza. Sono i blasoni che comunque fa molto piacere però per noi noi dobbiamo avere l'obiettivo fisso in testa e poi ogni domenica giocarcela come se fosse una finale. Buon lavoro.